La celebre conduttrice televisiva Stefania Orlando ha trovato di nuovo l'amore e questa volta il fortunato è Marco Zecchini. Ecco infatti che il suo cuore batte ora per un uomo che ha saputo conquistarla con pazienza e delicatezza. Scopriamo insieme chi è Marco Zecchini e come ha fatto breccia nel cuore di Stefania. Dopo la fine del matrimonio con Simone Gian Lorenzi, Stefania Orlando ha aperto il cuore a una nuova relazione. Marco Zecchini, il nuovo compagno di Stefania Orlando, è un uomo che ha saputo conquistarla con pazienza e rispetto. La coppia ha iniziato a frequentarsi la scorsa estate e da allora ha mantenuto un profilo basso, fino a quando Stefania ha deciso di presentarlo ufficialmente sui social. Marco Zecchini è un imprenditore di 49 anni, consulente finanziario e professore universitario. Originario di Roma, Marco è separato e padre di tre figli. La sua vita professionale lo ha visto affermarsi come un punto di riferimento nel settore finanziario, grazie alla sua competenza ed edizione. Marco ha conquistato Stefania con la sua pazienza, dimostrando di saper rispettare i tempi e i bisogni della conduttrice. Questo approccio delicato è stato fondamentale per Stefania, che dopo la fine del suo precedente matrimonio aveva deciso di prendersi del tempo per sé stessa. La storia d'amore tra Marco Zecchini e Stefania Orlando è iniziata in sordina, ma ha presto preso una piega importante. Stefania, infatti, ha recentemente dichiarato in un'intervista a nuovo di vedere un futuro promettente con Marco. Sto vivendo questa storia giorno per giorno e non nascondo che ci sono tutti i presupposti giusti perché possa andare avanti, ha detto la conduttrice, mostrando quanto sia felice accanto al suo nuovo compagno. La coppia ha fatto il debutto ufficiale sui social media con una foto pubblicata da Stefania sul suo profilo Instagram, che ha raccolto migliaia di like e commenti positivi. Questo passo è stato significativo per Stefania, che ha sempre preferito tenere la sua vita privata lontano dai riflettori, soprattutto dopo l'esperienza del grande fratello Vip. Stefania Orlando, prima di incontrare Marco Zecchini, ha vissuto una lunga e intensa relazione con Simone Gianlorenzi, conclusasi con un divorzio dopo circa 15 anni. Durante la sua partecipazione al grande fratello Vip, il loro rapporto è stato spesso sotto i riflettori, con Simone che le faceva sorprese e partecipava attivamente alla sua vita mediatica. Tuttavia, questa esposizione ha contribuito alla loro separazione, come Stefania ha rivelato in diverse interviste. Dopo la rottura, Stefania ha scelto di concentrarsi su se stessa, fino a quando Marco non è entrato nella sua vita, portando con sé un vento di cambiamento e speranza. In una recente intervista la Orlando ha confessato, non me lo aspettavo che finisse. Io e Simone ci siamo amati profondamente per oltre 15 anni, però oggi penso che il vero amore è quello che lascia andare. Sono entrata, è al GF Vip pensando di starci qualche settimana e sono rimasta mesi. Non so se questo abbia contribuito alla crisi del mio matrimonio, forse semplicemente anche i grandi amori finiscono ed è saggio ammettere la fine piuttosto che ostinarsi a portare avanti qualcosa che non ha più ragion d'essere. Marco Zecchini rappresenta per la conduttrice una nuova possibilità di amore e serenità. Nonostante la cautela iniziale, Stefania è ora aperta a vivere questa relazione a pieno, sperando in un futuro insieme. La loro storia, fatta di comprensione e rispetto, è un esempio di come l'amore possa rinascere anche dopo momenti difficili. Grazie.